Giustamente i cittadini di Taranto mi chiedono, ma chi sono questi 17 consiglieri comunali che tengono ancora in vita quasi artificialmente Rinaldo Melucci e la sua amministrazione? È giusto saperlo, è giusto far vedere i loro volti e rendere noti i loro nomi, perché se la città si trova in una situazione di sfascio, di degrado, bisogna sapere coloro i quali, ripeto, consentono ad un'amministrazione incapace ancora di tirare a campare a danno della città. Ecco nomi, cognomi e volti. Piero Bitetti, presidente del Consiglio Comunale, appartiene a CON, non dice ufficialmente di voler sostenere Melucci, però lo fa attraverso il comportamento in aula. È colui il quale si è astenuto sul voto di bilancio previsionale salvando l'amministrazione Melucci. Stefania Fornaro, consigliera comunale di CON, non sappiamo ancora se resterà ancora in CON o ci saranno provvedimenti da parte di CON nei suoi confronti. e passiamo ancora a Fatbarda Bianca Bosniacu, eletta e poi espulsa dal Partito Democratico, Valerio Papa, eletto e poi espulso dal Partito Democratico, Michele De Martino, eletto e poi espulso dal Partito Democratico. Adriano Tribbia, Taranto Futuro in corso, Filippo Illiano, Taranto Futuro in corso, Patrizia Mignolo, Taranto Futuro in corso, Michele Patano, Taranto Mediterranea, Goffredo Lomuzio, eletto in più centrosinistra, Luigi Agrusti, Taranto Popolare, Giuseppe Fiusco, eletto in Taranto Crea, poi passato a CON ed espulso da CON, Elena Pittaccio, eletta in più centrosinistra, Paolo Castronovi, eletto nel Partito Socialista Italiano e poi rottura col Partito Socialista Italiano che ne ha preso le distanze. Salvatore Brisci, eletto in una lista di centrodestra, poi passato a sostegno di Melucci, un periodo federato con Italia Viva. Salvatore Brisci è uno dei 17 firmatari che sfiduciò Rinaldo Melucci. Massimiliano Stellato, eletto in una lista del centrodestra, poi passato a sostegno di Melucci e ora in Italia Viva. Massimiliano Stellato è colui il quale sfiduciò Rinaldo Melucci. Carmen Casula, stesso percorso di Massimiliano Stellato, eletta nel centrodestra, poi a sostegno di Melucci, ora Italia Viva. Bene, non ho voluto certamente fare, come si suol dire, le liste di proscrizione, nulla di personale contro questi consiglieri, però è bene che i cittadini sappiano che queste sono le persone che tengono ancora in vita, attaccato quasi alle macchine artificiali, il sindaco Rinaldo Melucci. La città deve sapere chi sono questi signori per un fatto di chiarezza. Aprite gli occhi cittadini, apriteli e ricordatevi, volti, nomi e cognomi di questi consiglieri, soprattutto quando si tornerà al voto, chissà quando, e queste persone chiederanno, vi chiederanno il vostro appoggio e il vostro sostegno. Ricordatevelo, non dimenticate!